Eccoci qui, buongiorno amici followers, bentornati sul canale, bentornati alla consueta analisi settimanale, il content dove andiamo ad analizzare e commentare ciò che è accaduto sui mercati settimana scorsa e andiamo a cercare delle potenziali occasioni, delle potenziali operazioni per la settimana in corsa. Prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e lasciare un bel like di supporto al video se questi contenuti vi piacciono e vi interessano. Allora, per quanto riguarda settimana scorsa cosa è successo? Pochi movimenti sui mercati, in particolare gli indici europei sono cresciuti in media di un 1%, mentre non ci sono stati movimenti degni di nota sul fronte americano. S&P 500 e Nasdaq sono rimasti praticamente piatti, mentre il Dow Jones ha avuto una buona performance positiva e noi eravamo proprio posizionati long sul Dow Jones, quindi andremo anche a commentare quella posizione. Detto ciò, adesso ci spostiamo al grafico e andiamo un attimo a fare il punto di vista macroeconomico e il punto di vista della situazione in America e in Europa. Allora, partiamo cercando di capire com'è, com'è l'entusiasmo dell'investitore medio. L'investitore medio in questo momento si trova in uno stato di paura barra neutrale, ovvero non è tanto sicuro di comprare sui mercati finanziari, perché effettivamente i dati che sono usciti, i dati che stanno uscendo, non sono troppo rassicuranti. Abbiamo già visto la disoccupazione crescente, il PIL invece che sta scendendo e questo chiaramente non porta tanto ottimismo nelle scelte di investimento degli investitori. Quindi già questo è un dato interessante, ma il dato che voglio farvi vedere, importante, che è uscito proprio settimana scorsa e più importante, e lo vado immediatamente a prendere, è questo dato qui, secondo me, richieste iniziali su disoccupazione. Come sapete noi guardiamo sempre la disoccupazione, il tasso di disoccupazione che si vede crescente. Beh, signori, inizio a vedere dei segnali interessanti anche su richieste iniziali su disoccupazione, dato che esce praticamente settimanalmente, e questa settimana, signori, devo dire che mi ha abbastanza sorpreso. Vi faccio vedere anche il perché, perché se andiamo a vedere il grafico, possiamo vedere che nell'ultimo anno, negli ultimi giorni, c'è effettivamente una crescita abbastanza importante, no? Proprio nell'ultimo periodo, dall'inizio di maggio, no? C'è questo trend abbastanza crescente per quanto riguarda le richieste iniziali su disoccupazione. Vuol dire che i suci di disoccupazione vengono richiesti quando la gente effettivamente non lavora. Quindi, dato effettivamente da tenere in considerazione che mi fa aspettare un aumento anche del tasso di disoccupazione che uscirà poi dopo, nelle prossime settimane. Quindi un mercato del lavoro americano in crisi, che inizia a essere in crisi. Ma il mercato del lavoro, da chi è composto? Signori, dagli americani. Dagli americani che, se andiamo a prendere questi grafici, grafici che avevo già fatto vedere ma li ripropongo perché interessanti, mostrano come dal 2000, da dopo il Covid, qua possiamo vedere 2020, da dopo il Covid 2021 c'è stato un aumento dell'utilizzo delle carte di credito. Quello che state vedendo è il grafico sull'utilizzo delle carte di credito. Quindi cosa vediamo? Vediamo che gli americani stanno continuando a utilizzare le carte di credito. Quindi stanno continuando a spendere. E qua uno dice, vabbè, finché spendono tutto ok. Usano le carte di credito per spendere. L'importante è che poi dopo paghino i debiti che si prendono con le carte di credito. E' proprio qui il problema. Perché se andiamo a vedere l'insolvenza, possiamo chiamarla così, degli americani nell'utilizzo delle carte di credito, possiamo vedere che da dopo il 2020, quindi qua dal 2022, c'è effettivamente una crescita, no? Possiamo guardarlo proprio guardando il grafico in questo modo, come dal 2020 in poi proprio si vede, no? Qui possiamo dire da metà del 2021 questa crescita, questa curva abbastanza importante dell'utilizzo, cioè dell'aumento, dell'indebitamento degli americani. Quindi, americani che carte di credito le usano a cannone, sta aumentando l'insolvenza per quanto riguarda le carte di credito, cioè non vengono ripagati questi debiti, quindi l'indebitamento verso le banche, in più sta aumentando la disoccupazione. Secondo me, signori, questo è un quadro alquanto preoccupante. Ora, quando questo quadro preoccupante potrà rompere il mercato? Beh, signori, questo è proprio l'impossibilità di dire, non lo possiamo sapere, è impossibile prevedere una recessione. A un certo punto, cosa succederà? Succederà che gli americani smetteranno di botto di spendere perché non hanno mica i soldi, perderanno il lavoro e lì si raffredderà immediatamente, si congelerà l'economia, si bloccherà l'economia e quello porterà poi dopo effettivamente alla recessione. Il problema è che non sappiamo quando questo succederà, quando questo accadrà. Di conseguenza continuiamo, e come vedete lo facciamo sempre, e continuiamo a sfruttare il trend rialzista, il trend laterale dei mercati che c'è in questo momento per fare delle operazioni. Quindi questa, come sapete, è la mia filosofia di investimento, cioè non andare a fermare i miei investimenti, non andare a fermare la mia operatività sulle analisi, fare le analisi per capire dove mi trovo e quindi decidere quanto spingere con gli investimenti, quanto rischio prendermi, se vai a prendere tanto rischio o poco rischio, in questo momento, secondo me, vale la pena prendersi poco rischio, in quanto la situazione effettivamente non è rosa, ma non vado sicuramente a bloccare la mia operatività, cercando di prevedere una recessione che, insomma, non c'è mai riuscito nessuno. Detto ciò, quindi, questo è il quadro che possiamo delineare dalla settimana scorsa, cosa però voglio farvi vedere per questa settimana, dato importante, prima faccio vedere velocemente inflazioni in Europa uscite come previsto, quindi per quanto riguarda l'inflazione in Europa ancora ci siamo, c'è stato il primo taglio dei tassi settimana scorsa, adesso, cosa possiamo vedere? Andiamo a vedere questa settimana, scusate, questa settimana, che dati interessanti escono. Non esce niente di troppo interessante, perché ci sono tanti discorsi dei membri del FOMC, e quindi è una settimana dove, tendenzialmente, i membri del FOMC dicono più o meno sempre tutte le stesse cose, salvo qualcuno che ogni tanto ha un colpo di testa e inizia a dire le sue. Quindi, salvo sorprese, non dovremmo aspettarci movimenti imprevisti del mercato, movimenti troppo forti, fino a giovedì, fino a giovedì, perché giovedì invece esce, signori, un tasso, un dato molto importante, ovvero il PIL in America. PIL che abbiamo detto, attenzione, il PIL è molto importante, a parte che è un dato volatile, quindi difficilmente esce esattamente come previsto, è previsto, in questo caso, per l'uscita di giovedì, è previsto 1.4, quindi in crescita rispetto all'1.3, uscito il 30 di maggio. Signori, attenzione, perché se dovesse uscire un PIL 1.2, 1, 0.8, questo sarebbe un dato veramente, veramente negativo, perché possiamo vedere come, comunque da febbraio, il PIL ha smesso di essere una fase crescente, decisa così, e ha iniziato effettivamente a scendere, e anche abbastanza velocemente, mi sento di dire. Di conseguenza potrebbe esserci una discesa ulteriore, un dato inferiore 1.4, porterebbe altro pessimismo sul mercato, e potenzialmente anche a dei movimenti forti, a ribasso, dei principali indici americani, soprattutto dei mercati americani, in loco. Quindi, questo è un po' quello che dobbiamo aspettarci a settimana prossima, questa settimana, scusate, quindi, discorsi dei membri del FOMC, e dati sul PIL americano. Questo è un po' quello che c'è da vedere. La situazione del mercato del lavoro, l'abbiamo analizzata, chiaramente, non è una situazione, secondo me, rosa, vedendo anche la situazione, carte di credito, e indebitamento, che hanno gli americani, ora però è il momento di andare a capire che tipo di operatività si può fare. Allora, partiamo dall'S&P 500, che se uno guarda il grafico così dice, però guarda come spinge forte a rialzo. In realtà, signori, questo movimento qui che vedete sul grafico, tutto questo pezzo, è semplicemente dovuto al cambio di contratto, non è stato un movimento reale dell'S&P 500, è stato un cambio di contratto del Futures. Di conseguenza, questo 1.42% che vedete, è semplicemente cambio di contratto. Di conseguenza, cosa noto? Noto che l'S&P 500, se lo vado a prendere dal 22 di maggio, a oggi, che sto registrando, quindi al 23 di giugno, noto che la crescita, che mi viene data in percentuale dal grafico, è 3.67, ma da questo devo togliere un 1.4, quindi in realtà la crescita è stata solo di un 2% nell'ultimo mese, e in realtà è stata di un 2% anche se vado a prendere il massimo raggiunto il 1 aprile, quindi dal 1 aprile a oggi la crescita reale è stata intorno al 2-2.5% per quanto riguarda l'S&P 500, nonostante Nvidia, Apple, abbiano spinto con tanta forza verso l'alto, e sappiamo che Nvidia e Apple, e Microsoft anche sta spingendo forte verso l'alto, sono i titoli che hanno un peso maggiore nell'S&P 500. Allora, cosa noto? Noto, sì, l'S&P 500 sta andando su, è vero, ma perché ci sono quei titoli che spingono forte, però in realtà il mercato, in loco, in generale, non sta così tanto performando. Questo è quello che secondo me bisogna vedere e bisogna considerare, perché non sta salendo tutto, stanno salendo solo quelli dell'S&P 500, essendo sbilanciato su quei titoli lì, chiaramente prende forza da quelli, ma, secondo me, iniziano ad essere segnali da prendere in considerazione. Di conseguenza, la mia operatività su S&P 500 rimane quella segnata qui a grafico, e finché l'S&P 500 non arrivi in area 5.340, io non entro assolutamente long. Per quanto riguarda il Nasdaq, invece, qui la performance è stata un po' più importante, se andiamo a prenderla dal primo di aprile, adesso qui c'è il massimo è stato raggiunto in data 21 marzo, quindi prendiamo il 21 marzo, qui la performance riguarda il 6,81%, da cui dobbiamo togliere sempre questo gap di un 2%, quindi siamo sul 4%, 4,5%. 4,5%, signori, che però, attenzione, anche qui di questo 4% dobbiamo considerare il peso ancora più importante di aziende come Nvidia, Microsoft e Apple. Quindi, sempre il discorso del fatto che gli indici sono molto sbilanciati su questi titoli. Il Nasdaq ancora più dell'S&P 500. Sul Nasdaq, cambio leggermente operatività, non faccio il primo ingresso in area 18.000, ma sposto il primo ingresso in questo momento in area 18.600. e 6, questa è la prima zona dove voglio fare un ingresso per quanto riguarda il Nasdaq, secondo ingresso per quanto riguarda il Nasdaq invece è l'area dei 18.000, quindi aggiungo un ingresso in più, mi prendo un po' più di rischio, il capitale che investirò sarà sempre quello, semplicemente aumento leggermente il rischio sul Nasdaq. Non compro finché non vedo dall'indice un ribasso importante, voglio vedere dei ribassi importanti prima di posizionarmi su questi due indici in particolare. Invece sul Dow Jones mi ero posizionato long qualche tempo fa, l'avevo segnalato su una caccia sui mercati, e qui invece siamo andati molto molto bene, perché dal nostro ingresso abbiamo fatto una performance importante di un 3,84%, quasi 4%, abbiamo raggiunto il primo target in area 39.5, si può aspettare un secondo target in area 42. Ricordo poi che chi volesse imparare la mia strategia di swing trading e volesse capire come trovo queste occasioni e in base a cosa decido effettivamente di entrare, quindi volesse imparare la mia strategia di swing trading dalla A alla Z, trovate il videocorso Taurus sul sito silvioluppi.com. Per maggiori informazioni o mi contattate tramite mail o tramite whatsapp trovate il contatto all'interno del mio sito internet. Quindi Dow Jones l'abbiamo già visto, altre operazioni che abbiamo in macchina, l'Italy 40, Italy 40 dove ho fatto un ingresso in area 33.5, vi invito ad andare a recuperare la caccia sui mercati di venerdì dove ho spiegato tutta questa operazione e il perché è stata fatta in questo momento, leggermente in profitto ma finché non arriva target o comunque in area 34.8, 35 non penso di uscire. Al massimo farò degli altri ingressi sotto nel caso dovesse scendere. I punti di ingresso sono come sempre le aree gialle. Quindi Italy 40, bene, sul DAX sono entrati, in questo momento la posizione in pari rimango anche qui sul DAX alla finestra. Prossimo indice che ho invece, UK 100, ingresso fatto in area 8100, qui sono a profitto, ho liquidato parte della posizione in area 8200, ne ho tenuto a metà, se dovesse riscendere in area 8100 la riappo. Cerco di sfruttare la lateralità, proprio come posso dire, una caratteristica importante dell'indice inglese, la sfrutto al massimo tramite queste entrate e uscite un po' più veloci. Chiaramente tutto parte della mia strategia di swing trading. Poi, ancora, cos'altro andiamo a vedere? Euro-Dollaro, dove sono posizionato in questo momento long, per un discorso di differenziale tra tassi, mi sono posizionato long, perché comunque gli Stati Uniti, vedendo un'inflazione che sta calando, è una situazione tra disoccupazione e PIL, che si sta iniziando a compromettere, secondo me, qui i tagli dei tassi ci saranno entro la fine dell'anno, questa discesa è dovuta a, l'ho spiegato, potete ritrovare il video sempre nel video di venerdì, della caccia sui mercati, questa discesa, presa, anche questa, questo short l'abbiamo preso, questa discesa, dovuta ai tassi di interesse in Europa, che sono stati tagliati prima rispetto a quelli in America, in America sembrava non si dovessero tagliare i tassi di interesse, e poi dopo esce l'inflazione in America, ah no li tagliamo anche qua, e quindi torna bilanciato il discorso tassi di interesse, iniziano a tagliare un po' tutti e due, di conseguenza mi aspetto una ripresa del dollaro americano, scusate, dell'euro rispetto al dollaro americano. Visto anche questo, cosa volevo far vedere ancora? Andiamo a vedere, ah, Bitcoin, volevo farvelo vedere, perché si sta avvicinando alla zona dei 61 e 100, molto timidamente, si sta avvicinando, questa operazione, se dovesse avere un segnale tecnico nell'area dei 61 mila, farò un'operazione long, chiaramente solo con fini speculativi, dopo ingresso a stop loss, 55 e 8, devo avere però un segnale tecnico su questo supporto, scusate, altrimenti non entrerò a mercato. Poi, chiudo, andando a vedere, petrolio, che me l'avete chiesto nei commenti, è salito molto forte, secondo me l'area degli 80 è alta, è molto alta l'area degli 80, finché non torna in area 72, non farò ingressi long, un primo ingresso long, lo si può fare, secondo me, qui in area 76, questo supporto è abbastanza interessante, però, come vedete, è un supporto che è stato rotto, in realtà, io avevo concentrato il capitale in area 72, e poi ce l'avevo in un'altra parte, in area 68, avevo evitato l'area dei 76, ho avuto ragione, non è detto, che la prossima volta non rimbalzi in area 76, e torni in area 79. Io comunque, il supporto che mi piace è area 72, e continuo a mantenere quell'ingresso. Chiudo, poi dopo ho finito con Natural Gas, Natural Gas sono già sul Futures, con scadenza agosto, il Futures d'agosto, quindi quello che scade prima di agosto, scaderà a fine luglio, secondo me ingressi long, interessante per Natural Gas, l'area dei 2.6, e poi anche l'area dei 2.5, questo per ingressi long, prima di quelle zone, secondo me, a mio parere, il prezzo rimane troppo alto. Detto ciò, per quanto riguarda la videoanalisi settimanale, è tutto, quindi le cose non cambiano, a mio parere. La situazione è sempre quella, l'economia americana, ha effettivamente una situazione complicata, da dover affrontare, una situazione che potrebbe, con buonissime probabilità, sfociare in una recessione, ma non ne siamo sicuri. Prevedere una recessione è impossibile, non ci è mai riuscito nessuno, si possono prendere soli dati e raccogliere, e di conseguenza, poi dopo gestire il rischio, in base ai dati raccolti, e alla probabilità, che una recessione ci sia, effettivamente o meno. Poi, se non ci dovesse essere, tanto meglio, ci siamo riusciti a fare le nostre operazioni, senza prendere nessuno stop. Se ci dovesse essere, abbiamo ridotto il rischio, gli stop che sono stati presi, sempre se dovessero essere presi, farebbero meno male al nostro conto, e quindi si riesce ad affrontare anche questo momento. Ricordo che il lavoro di un trader, il lavoro di un investitore, è quello di gestire il rischio, non quello di prevedere il futuro. Detto ciò, per quanto riguarda l'analisi di oggi, è effettivamente tutto. Vi ringrazio per la visualizzazione, nuovamente un bel like di supporto, e vi auguro una buona giornata.